Ferramenta da fer, prodotti e forniture nel settore del ferro, battuto, acciaio inox, accessori per serramenti in ferro, utensileria, sistemi di sicurezza, bulloneria, saldatura, antinfortunistica e vernici. Serrature dei migliori marchi come Mottura, Cisa, Iseo, serrature, esperienza e professionalità. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per i professionisti del settore. Da Fer e a Capurso, in via Casamassima 54-56.